Di nuovo in diretta da Senigallia per gli SDC Days, ci piace alternare formazione, studio, approfondimenti con l'esperienza. È banale dirlo, ma tutto questo sarebbe inutile quasi un esercizio di accademia se poi non ci fossero persone in carne ed ossa che continuano a scommettere sulla comunità e su quelle comunità che sanno e vogliono incontrarsi anche all'interno di una sala. È per questo che con molto molto piacere ci colleghiamo con Bari, dove dovrebbe essere presente Paola Sblendorio. Non la vedo ancora. Ciao Paola. Non la vediamo. Sì, c'è? Ma noi allora... Ecco qua. Chiedo scusa, non c'avevo il ritorno. Ecco qua. Ciao Paola. Ti cedo la linea perché il momento è veramente bello. Paola Sblendorio è responsabile dei progetti di Acec, Puglia e Basilicata ed è presidente del Circo Lanci, Il Piccolo Principe. A te Paola. Grazie. Bene, ci troviamo qui a Santo Spirito, a Bari, dove è già in corso la manifestazione per l'inaugurazione della sala della comunità Il Piccolo Cinema. Non si tratta di una nuova apertura, ma di una riapertura dopo 18 mesi di chiusura per un restyling completo avvenuto grazie ad un avviso pubblico della regione Puglia. Il Piccolo infatti esiste dal 1999, quando il parroco Don Peppino Cutrone pensò di trasformare una sala parrocchiale in cinema all'avanguardia, intuendo le potenzialità di incontro con l'altro che poteva avere una realtà come questa. Da allora questa sala è famiglia, è famiglia per moltissime persone, lo è sicuramente per moltissimi, ma è sicuramente anche per me che offro qui il mio servizio sin dal primo giorno. È famiglia per tutti i volontari che sono qui presenti, tra l'altro qui presente con noi Don Peppino, che ringrazio per essere presente. Don Peppino è il fondatore di questa opera e oggi è un piccolo, è un riferimento, è una famiglia per moltissimi, ma è un punto di riferimento anche per chi ama il cinema di qualità, per chi ama il cinema d'autore. Oggi siamo qui con Monsignor Cacucci, arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto, prego, con Don Fabio Campione, parroco della parrocchia che gestisce questa sala e con Don Gianluca Bernardini, eccolo, del direttivo ACEC e presidente ACEC Milano. Adesso per l'inaugurazione ufficiale della sala eccoci, passo la parola a Monsignor Cacucci che procederà con il taglio del nastro alla benedizione. Ebbene diciamo questa sala che è diventata ancora più splendente perché questo è un cinema, cinema piccolo, che ha avuto una grande storia, una grande influenza non solo sul Santo Spirito ma su tutta la realtà del territorio. Il parroco Don Peppino Cutrone è stato iniziatore, adesso in un modo eccellente continua anche Don Fabio Campione. Adesso preghiamo un po' il Signore perché le realtà meravigliose della natura e dello spirito ci permette di gustare la cultura e la cultura cinematografica. Cultura è l'insieme dei beni della natura e dello spirito e poi il cinema non è altro se non un linguaggio di immagini in movimento. Preghiamo, Dio creatore di tutti, che opera sempre le sue meraviglie, illumini le nostre intelligenze, accompagni il lavoro e l'approfondimento culturale di questo cinema perché noi possiamo conoscere, amare, servire la verità e possiamo adoperarci senza mai stancarci alla diffusione della verità e della pace. Prego Allora, buonsignor, buonsignor, prego, 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 se c'è Lenza proviamo in qualche modo adesso a raccontare il valore di questa sala iniziamo da lei, per quanti ci seguono in collegamento con SDC on live può dirci secondo lei qual è il valore di una sala come il piccolo in particolare per la diocesi di Bari di Tonto? Vorrei riprendere quello che dicevo poc'anzi non si tratta di soltanto proiettare dei film è anche una sala di comunità quindi aperta non solo alla cultura cinematografica ma è una sala in cui anche gli incontri, gli incontri più diversi da un punto di vista culturale possano svilupparsi è importante che la visione di un film sia sempre accompagnata da una lettura del film che cos'è la lettura? La lettura è l'interpretazione dei segni in questo caso l'interpretazione dei segni immagine quindi il ruolo di questa sala secondo la migliore tradizione dell'Arcec è un ruolo educativo cioè educare la lettura del film e attraverso la lettura del film rendere le persone sempre più responsabili per cui quando si trovano non solo di fronte al cinema ma anche quando si trovano a seguire un film ma anche in televisione abbiano dei criteri che poi li accompagnano nel loro progresso culturale E quindi cosa significa? Per la diocesi è un valore aggiunto questa sala? La diocesi di Bari ha una lunga tradizione Don Beppini è stato mio alunno in seminario e sa che da quel periodo noi facevamo dei corsi di lettura e io spero e diciamo mi permetto di interpretare questa sua passione legata anche a questo momento noi abbiamo una tradizione molto ricca perché quelle che erano dopo la guerra le sale cinematografici le sale parrocchiali che hanno avuto un ruolo di promozione culturale enorme nel dopoguerra questo è riconosciuto della storia e anche credo che nella storia del cinema italiano questo debba rientrare poi è chiaro che queste sale che avevano non solo lo scopo di allargare la cultura cinematografica tutto ai ceti anche più popolari si è andato specializzando sempre di più attraverso i cosiddetti cineforum io vorrei ricordare che i cineforum sono stati soprattutto un appannaggio delle parrocchie e della realtà ecclesiale è chiaro non sempre i cineforum erano una espressione di lettura scientifica dei film però aiutava a rendere la partecipazione sempre più consapevole in ogni caso c'erano delle parrocchie perché non si è trattato soltanto il piccolo è venuto dopo a Bari ce ne erano tante a Gioia i parrocchie che tenevano dei corsi di cineforum ogni anno almeno di dieci film ebbene noi qui al piccolo ne abbiamo fatti tantissimo di cineforum in molti ha partecipato anche lei e ne siamo grato per i contributi che ci ha dato in questi anni quindi speriamo anche in futuro volevo sottolineare che il piccolo è della migliore tradizione e credo che adesso sia la sala fra le sale più belle non solo della città di Bari ma del territorio con i servizi che abbiamo aggiunto magari dopo li andiamo a descrivere sicuramente si presta anche a questo genere di incontri mentre Don Gianluca secondo te tu che sei di Milano che rappresenti comunque l'ACE che sei del direttivo e che conosci da moltissimi anni la realtà ACEC italiana la sala una sala pugliese una sala di Bari che cosa significa per l'associazione siamo pochissimi beh direi di sì ma lo dimostra già il fatto che ci ritroviamo qui stasera come ha ricordato Sua Eccellenza in una sala che è davvero splendida e si è rinnovata ed è ancora più bella e il fatto che siamo anche qui in tanti presenti beh prima di tutto porto anche i saluti del presidente nazionale dell'ACEC Don Adriano Bianchi del segretario Francesco Giraldo che ci segue dalle marche in questo momento durante gli SDC Days come sono stati richiamati precedentemente e di tutto il direttivo di cui io faccio parte che questa sera appunto rappresento beh sicuramente prima di tutto un plauso perché al giorno d'oggi ancora credere nelle potenzialità della sala della comunità vuol dire davvero non solo avere coraggio ma credo in un tempo così come quello che stiamo vivendo del covid è un segno davvero di speranza io credo che questa sera noi diamo un segno di speranza a tutti soprattutto ecco come ricordava anche Sua Eccellenza la nota del 1999 della conferenza episcopale italiana sulla sala della comunità dice che tra le strutture parrocchiali la sala della comunità ha una certa preminenza una certa rilevanza quindi la sala della comunità questo mi piace ricordarlo è della comunità di questa comunità che è qui rappresentata questa sera da chi continuamente ci lavora e da anni lo fa ma non solo di tutta la comunità cristiana che in qualche modo ne è coinvolta quindi è della comunità è per la comunità quindi la comunità che abita questo territorio ma non solo è anche il luogo crocevia dove tantissime persone vengono a contatto con quella che noi possiamo chiamare una realtà ecclesiale dove direttamente non si annuncia il Vangelo ma si respirano quei valori del Vangelo attraverso i prodotti culturali come il cinema ma non solo parliamo anche di teatro parliamo anche di mostre so che anche qui ne avete fatte nei diversi luoghi che diciamo sono un prolungamento della sala stessa e poi devo dire davvero questa sera poi avremo modo non so anche di vedere gli ambienti che sono stati ristrutturati e che sono un proseguo della sala della comunità ecco attraverso questi linguaggi proprio diventa la sala il luogo di crocevia di incontri dell'umano mi piace ricordare questo ecco spesso oggi ne parlavamo prima anche con sua eccellenza il progetto culturale della CEI metteva al centro il valore della cultura e in questi ultimi anni grazie anche a Papa Francesco che comunque chiama sempre ad una chiesa in uscita e credo che la sala della comunità sia un'espressione di questa chiesa in uscita forse si è un po' accentuata il valore della cultura della carità ma c'è anche una carità della cultura che non va dimenticata credo che se un ruolo ce l'ha la sala della comunità come presidio culturale è quello di aiutarci in qualche modo a creare cultura condivisione e comunione quindi io questo vi dico e vi auguro davvero come ACEC vi abbiamo accompagnato in questi anni vi abbiamo visto crescere ne siamo orgogliosi e oggi sono contento di essere qui con voi a fare festa grazie a te grazie a ACEC e passiamo la parola ad un Fabio al quale poniamo una domanda un po' personale no? perché insomma tu hai dovuto prendere in consegna un progetto già presentato in regione già approvato e quindi la curiosità è come ti sei posto di fronte come hai affrontato il dover proseguire questo progetto e umanamente che tipo di esperienza hai vissuto in questi mesi la domanda è sincera è autentica perché riflette quello che ho provato specialmente nelle prime settimane che ero qui quando mi mi fu presentata questa opportunità straordinaria già approvata dalla regione ma che andava adesso messa in cantiere io ho voluto semplicemente condividere un sogno condividere il sogno del mio predecessore che ringrazio ancora Don Peppino Cotrone che qui farei anche un applauso perché lo merita tutto Don Peppino che è qui anche delegato a CEC Puglia e Basilicata quindi lui aveva questo sogno perché aveva intuito che il mondo di oggi ha bisogno anche di strumenti moderni perché il Vangelo e i suoi valori potessero arrivare ovunque e dunque sinceramente ho una certa trepidazione ma con gioia ho deciso di portare avanti affinché la sala della comunità diventi veramente l'occasione in cui si vada all'uomo di oggi con i mezzi di oggi perfetto che la comunità è grata perché questa sala è stata io permettetemi anche di ringraziare lo faccio perché non l'ho fatto prima ma lo voglio fare ora sala della comunità sala di tutta la comunità quindi ringrazio veramente di cuore anche tutti i responsabili di associazioni e movimenti che oggi mi danno la gioia ecco di vederli tutti riuniti intorno a questo sogno condiviso fare diciamo così della nostra sala un punto di riferimento culturale per la città e per la provincia grazie grazie a voi bene allora ridiamo la parola a SDC chiuderei in questa maniera direi che il nostro è un ritorno dopo questi lavori di riequalificazione è un ritorno al futuro ma è un ritorno nel futuro e così come siamo stati in questi anni i primi moltissime cose nel digitale nei contenuti digitali dei teatri nelle degustazioni siamo stati primi a Bari a proporli il nostro auspicio il nostro desiderio è quello di continuare a portare avanti questo futuro quindi saluto gli ospiti e do la parola ai 16 grazie e noi la riprendiamo immediatamente la linea grazie a Paola Sblendorio grazie agli amici del piccolo di Bari è proprio bello vedere che non solo si resiste ma si ha voglia di continuare con entusiasmo e con visione con sogno e lungimiranza noi chiudiamo questo panel dedicato all'esperienza che rende vita l'idea che rende il percorso possibile calpestabile quello che magari a volte si scrive sui libri o si ragiona insieme ad altri amici in realtà c'è spazio anche per sperare perché ci sono tanti amici che non mollano chiudiamo questo panel ci vediamo tra poco per esplorare un'altra frontiera dell'esercizio cinematografico che era un po' nell'aria ma che l'emergenza pandemica ha necessariamente potenziato se così si può dire con la quale bisogna fare i conti allora le 19.30 tornano da Senigallia on live le SDC Day l'esercizio l'esercizio l'esercizio